Sei appuntamenti con repliche serali e matinee per le scuole. Prende il via giovedì 8 novembre Mille Piani, rassegna teatrale a cura del Teatro Rigamondi. Con lo scopo e l'intento di dar voce alla ricerca artistica, personale e di gruppo, i linguaggi utilizzati si avverranno di volta in volta di supporti musicali, video e artistici attraverso delle installazioni. Qual è il filo conduttore che lega gli spettacoli che rientrano in questa rassegna? Come dice il titolo, Mille Piani dal Teatro Contemporaneo non ha un filo conduttore, perché diversi sono i piani in cui si realizza il teatro contemporaneo. Il filo conduttore è quello di creare degli eventi che siano non il solito teatro, ma un teatro fuori dai canoni. All'interno del progetto Mille Piani dal Teatro Contemporaneo sono previsti dei workshop dedicati alle scuole. Quindi i ragazzi verranno, vedranno gli spettacoli, poi nelle loro classi faranno degli elaborati e i migliori elaborati verranno premiati con il progetto, i quaderni del Teatro Multimediale Mille Piani. L'appuntamento con la seconda edizione di Mille Piani è dall'8 al 14 novembre presso la Sala delle Mura del Centro Comunale d'Arte e Cultura Il Ghetto, in via Santa Croce 18. in Abgeordnete ma non in cui non